Il buongiorno si vede dal mattino, vero Mati? Sto ancora dormendo. Niente, questa mattina ragazzi ha ben pensato di svegliarsi del 7 in un quarto, quindi visto che ormai è già due ore che sveglia, andiamo a fare colazione fuori, facciamo un girettino e poi oggi lavoriamo ai Marchini a Como perché c'è la Cocktail Week e quindi diciamo che abbiamo deciso poi di pranzare anche lì io e Marchini insieme. Ci facciamo una mezza giornatina per noi visto che tra un viaggio e l'altro pensiamo sempre alla fine a correre di qua e di là figli, impegni, come giusto che sia, però poi tralasciamo un po' la parte della coppia e in tanti di voi infatti mi scrivono ma come fate? Eh, bisogna incastrare tutto, non è semplice, è un viaggio meraviglioso con tutti questi figli però ecco, serve anche un momento della coppia. Buongiorno nipotini e diamo anche il buongiorno a Beatrice e Matilda un po' addormentata ancora dentro il suo lettino portatile. Ora vediamo come si svolge la giornata dei VIPs. Buongiorno nipotini e diamo anche il buongiorno a Beatrice e Matilda.